Scendono i positivi in Abruzzo, nonostante sia ancora alto il numero di persone contagiate in regione dal Covid-19, oggi si va sotto quota 200, numero che ieri era stato superato. Sono infatti 145 casi nelle ultime 24 ore, di età compresa tra i 2 e gli 87 anni, che portano il totale da inizio emergenza sanitaria a 84.246. Scende in particolare grazie ai test antigenici rapidi il tasso di positività di quasi un punto, fermandosi oggi all'1%. Il totale dei tamponi effettuati oggi è 14.385, divisi in 3.793 molecolari, che sono meno di ieri, e 10.592 rapidi. In area medica si aggiunge ancora un altro paziente, per un totale di 82 ricoverati nei reparti ordinari. Rimangono stabili invece i ricoveri in terapia intensiva, che si fermano a 6, mentre coloro in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL sono 2.518, in crescita di 94 rispetto a ieri. Sono 50 le persone guarite dal Covid nelle ultime ore, sottratti al numero dei positivi di oggi, fanno salire di 95 il numero degli attualmente positivi per un totale di 2.606. Per quanto riguarda la divisione dei casi nelle rispettive province, ritorna a essere termo quella con l'incremento maggiore, con 56 casi in più rispetto a ieri, poi l'Aquila con 37, Pescara con 32 ed infine la provincia di Chieti con un aumento di 30 positivi. Il dato più incoraggiante di oggi è quello dei decessi, che non registra ulteriori incrementi, rimanendo fermo a 2.566 da inizio emergenza sanitaria.